La prima volta che siamo visti là, in quel palazzo, nel palazzo Pirelli, nella vecchia sede di regione, in partita la sede storica. Non credevo che era tanto alto per un'altra volta, hai cresciuto. Ma quando io sono diventato che sede di regione da via, l'ultimo piano, per l'unesimo, era abbandonato. Io l'ho rimesso per oggi, oggi è diventata la location più richiesta di un'altra. Il disegno italiano è sempre una cosa, è veramente nuovo, magica. No, veramente, vuoi fare, stiamo guardando verso l'Ovest. Stiamo guardando verso l'Ovest, sì. Noi saremmo molto fiero di avere questo edificio in Boston. Non c'è dubbio. Io penso che ogni Stato sarebbe molto orgoglioso. Guarda, lui l'ho trovato veramente fascinante, perché ci sono delle cose... Sì, c'è il grande panorama, c'è tutto questo che è molto magnifico. Ma sono molto interessato come il sistema di essere autosufficiente. Perché questo è veramente speciale, questo è importante per il futuro, per il modello. Ma questo è il concetto che cos'è? No, no, è una piazza, la piazza... No, è proprio una vela, è una vela che c'è, per il proprio la piazza. E' fatta di alluminio e plastica, sì, plastica molto freggiata, in modo che possiamo anche tenere i rinchi. No, veramente è interessante. Mi fa piacere. Grazie.